Andiamo a compilare la sezione delle esigenze di famiglia, dopo aver visto l'anzianità del servizio. Apriamo esigenze di famiglia, nella casella numero 7 si inserisce, laddove si ha un coniuge a cui si intende ricongiungersi, la provincia di ricongiungimento, nel mio caso Reggio Calabria e poi il comune di ricongiungimento, che nel mio caso è la città di Reggio Calabria. Chi non è coniugato può ricongiungersi a un figlio o a un genitore. Nella casella numero 9 invece si inseriscono il numero dei figli di età inferiore ai 6 anni, nel mio caso 0. Nella casella numero 10 invece si va a inserire il numero dei figli di età compresa fra i 6 e i 18 anni, nel mio caso 1. Poi invece nella casella numero 8, laddove ci sono da assistere figli minorati o tossicodipendenti, oppure se si hanno genitori che fanno delle terapie particolari, si può scegliere la provincia e il comune dove si ha un'aggiunta di 6 punti, nel mio caso non ho questa situazione per cui non aggiungo nulla. Dopodiché si salva la sezione rimarrà salvata ma non inviata. Seguiteci ancora nel canale YouTube, faremo altri video di questo tipo e se avete domande ponetele tranquillamente anche nello stesso canale YouTube, faremo altri video sulle altre sezioni.